Siracusa, 247esima fondazione Fiamme Gialle, 10 milioni di evasione fiscale, scoperti 122 falsi percettori. Nel corso del 2020 e dei primi 5 mesi di quest'anno, ammonta poco meno di 10 milioni di euro l'evasione fiscale scoperta dai militari della Guardia di Finanza di Siracusa. I numeri sono stati forniti stamane nel corso della cerimonia in occasione dei 247 anni della fondazione delle Fiamme Gialle che si è tenuta nella caserma Alfredo Lombardi alla presenza del comandante provinciale colonnello Luca De Simone e del prefetto Giussi Scaduto. La significativa ricorrenza, oltre a rivestire un particolare significato in questo difficile momento per la provincia, rappresenta al tempo stesso l'occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte nel corso del 2020 e nei primi 5 mesi del 2021, nonché per riflettere sul ruolo sempre più importante che il corpo riveste a 360 gradi per la tutela dei cittadini grazie alle proprie peculiarità per la salvaguardia della legalità e a tutela della sicurezza economico-finanziaria del territorio aretuseo e della nazione. Piena e determinante è stata anzitutto la partecipazione all'azione sviluppata da tutte le forze di polizia nel particolare momento storico che tuttora sta vivendo la nostra società civile. Le fiamme gialle hanno infatti concorso all'azione di controllo del territorio interessato ormai da oltre un anno, come il resto della regione dell'Italia, dalla necessità di contenere la diffusione del Covid-19. Le attività promosse a livello interforze sotto legge della Prefettura sono state intense e hanno rivelato tutta la loro efficacia preventiva riscontrata dai contenuti in numero della pandemia che si sono sviluppati in provincia. Al di fuori dell'impegno profuso in relazione all'emergenza sanitaria, la specificità che distingue l'operato della Guardia di Finanza ha invece conferito particolare valore aggiunto alle altre attività del corpo. Diverse e penetranti sono state le investigazioni condotte su delega dell'autorità giudiziaria, altro interlocutore istituzionale di primissimo livello. Le operazioni delegate alla Procura hanno interessato in via trasversale una vasta gamma di comportamenti fraudolenti, assicurando peraltro il conseguimento dei numerosi risultati in materia di tutela delle entrate, spesa pubblica e tutela dell'economia. Nel primo segmento istituzionale tenuto conto del perdurare dell'emergenza pandemica, la Guardia di Finanza è stata chiamata a fornire un contributo sostanziale alla prevenzione e repressione dei fenomeni di evasione, e illusione e frode fiscali più gravi e perniciosi. In questo ambito trovano anzitutto spazio e sequestri per equivalente a seguito della constatazione dei numerosi reati tributari. Ancora in materia di tutela delle entrate, significativi risultati sono stati ottenuti in materia di lavoro, con particolare riferimento ai contributi dovuti dall'imprenditore ai propri dipendenti, è stata conclusa l'operazione Black Trash. L'attività ha approfondito in via trasversale altri filoni emersi nel settore della raccolta dei rifiuti, quali quello degli illeciti fallimentari, già portati alla luce con l'operazione Gold Trash, conclusa nel giugno del 2020, e quello degli illeciti ambientali, perseguiti con l'operazione Trash. Ma è in materia di spesa pubblica il contrasto alla criminalità economica e finanziaria che in un particolare contesto, come quello siciliano, deve essere colta in pieno la cosiddetta trasversalità dell'azione sviluppata dalla Guardia di Finanza. La tutela del bilancio dello Stato viene infatti garantita anche controllando, oltre alle entrate, le uscite del settore pubblico. Su questa linea si inquadrano le esecuzioni di attività che hanno consentito di accertare danni all'erario, con conseguente segnalazione alla Corte dei Conti di Palermo di diversi milioni di euro, e la denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria di 122 soggetti che hanno indebitamente percepito il reddito di cittadinanza per oltre 1 milione e 100 mila euro. Sul fronte della tutela dell'economia, importanti attività sono state concluse, anzitutto in materia finanziaria. Con l'operazione Gold Financing è stato portato alla luce un articolato sistema truffaldino volto alla percezione indebita di compensi per l'attivazione di false pratiche per l'erogazione del credito senza idonee garanzie. Altresì sono continuati gli accertamenti patrimoniali nei confronti di soggetti dediti ad attività deluttuose che hanno portato a rilevanti sequestri e confisca di beni anche a supporto del GICO di Catania. Ancora in materia di criminalità organizzata, del tutto particolari sono state le attività dirette alla bonifica dell'ambiente pernicioso in cui si sono trovate a operare aziende di notevole importanza economica e lavorativa residenti sul territorio. Su questa linea, nell'ottica della salvaguardia e dell'integrità del patrimonio aziendale, la Tech Services SRL, sempre operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti, a seguito dell'operazione Good Company, è stata immessa in amministrazione giudiziaria le misure di prevenzione previste dall'articolo 34, testo unico della normativa antimafia. L'attività ha proseguito in via giudiziaria quella preceduta in via amministrativa dalla Prefettura di Siracusa che aveva già colpito la società con comunicazione interdittiva antimafia, a essenza dell'articolo 92 dello stesso decreto legge. Il servizio nel suo complesso ha quindi rivelato la piena efficienza degli strumenti normativi a disposizione dello Stato per la lotta alla mafia che consentono, ricorrendo nei presupposti, di evitare provvedimenti di natura demolitorio. Ancora con l'uso dei poteri di polizia giudiziaria sono state portate a conclusione le operazioni Cavadonna, all'ese della quale sono state svelate lecite introduzioni di sostanze stupefacenti all'interno dell'omonima casa circondareale e fast shipping al termine della quale in sinergia con la Polizia di Stato è stato stroncato un traffico di stupefacenti tra l'Italia e gli Stati Uniti. La tutela della provincia sotto l'aspetto economico e finanziario è stata poi assicurata anche dai finanziari della locale sessione operativa navale dislocata nelle sedi di Siracusa Augusta che in questa direzione ha eseguito diversi servizi come quelli che hanno portato alla contestazione di leciti tributari di matrice internazionale nei confronti dei proprietari di imbarcazione stazionante nel porto di Siracusa. Queste operazioni sono maturate in collaborazione con i colleghi delle Capitania di Porto preziosa infine per l'operato del corpo le diverse forme di collaborazione intrattenute con altre amministrazioni dello Stato tra queste va evidenziata la collaborazione con il Preveditorato per le opere pubbliche per gli interventi necessari al miglioramento delle strutture militari. Grazie.